Il livello più basso dell'amore è quando cerchi con insistenza qualcuno che ti dia amore. A questo livello sei vuoto d'amore. Non sei in contatto con te stesso e con la tua fonte. Sei molto lontano dall'amore. Un altro livello è quando hai un po' di amore nel cuore e lo proietti immediatamente su qualcuno. In questo caso succede spesso che la relazione si basi sul dare e avere. Tu dai, perché ti aspetti qualcosa in cambio. Da questo livello d'amore nascono molte emozioni negative, gelosia, invidia, controllo. Un altro livello consiste nell'essere amore. Non scegli. Sei. Questo amore irradia in ogni direzione, arriva a tutto e a tutti. Allora esso è uno stato, non un oggetto da dare o da avere. Non chiedi più nulla a nessuno. Sei semplicemente te stesso nell'amore.